Quest'anno per la 18esima edizione facciamo un'apertura straordinaria del sito archeologico di Campovalano. In più presentiamo una mostra di pittura denominata Tu per Tu con l'arte, oltre a una estemporanea che è la quarta edizione. Il sito per raccogliere gli avventori è stato ristrutturato e ampliato di circa 3.000 metri, quindi abbiamo una superficie di circa 6.000 metri quadri con posti a sedere coperti di quasi 1.000 posti. Una struttura funzionale che darà sicuramente soddisfazione a tutti coloro che parteciperanno. Le altre novità invece riguardano anche i ghiatti oppure no? Sì, noi ogni anno proponiamo dei menù giornalieri e aggiorniamo costantemente le ricette e i ghiatti, senza togliere niente a un chef che dirige ormai da 15 anni questa cucina. Vorrei lasciare a lui i particolari perché io sono una buona porchetta ma non farvi dire altro. Buon mangiare!